bisogna sbrigarsi la competizione non ci permette più il tempo di stare qui a giocare tra le noi e visto che mi chiede un appello aiutatemi a svegliare la gente perché io sto indicando la luna e tutti mi dicono ma è il dito storto o non c'è ma perché non te le togli quelle macchie dalla pelle no ti sto dicendo c'è la luna lì lo vedi questo lo vedi questo e ti dicono ma c'è l'unghia sporca ma come te le tagli le gambe ti sto dicendo che qui c'è la zona franca mi aiutate mi aiutate veramente a svegliare un po la gente questo è quello che sto dicendo e rispondo a tutte le battute da bar che ho letto sul giornale non ci sto a scendere alle battute da bar non ho da parlare male né del sindaco né del centro-sinistra né del centro-destra ho solo da dire lì c'è la luna chi vuole andare a vedere la luna chi vuole creare lavoro andiamo tutti insieme e andiamo a fare squadra se non ci stiamo a casa ciao